Già andata. E qui davanti a noi abbiamo lo staff, lo staff animazione, lo staff animazione, eccoli qua tutti e tre, giratevi di nuovo. Abbiamo a sinistra, no, inizia a sinistra, il DJ Claudio, il vocalist Gianluca, e ecco l'animatore e paparazzo Mario. Ragazzi, questo è il nostro staff animazione questa sera, e guardiamo il carter per adesso, è vuoto ragazzi, è vuoto il carter, è vuoto, è vuoto, vuol dire che tutti sono andati via, però ragazzi io vi mostro la porta, la porta, la porta, io vi mostro, c'è una finestrella sulla porta, c'è veramente una finestrella sulla porta, apro, adesso entra una nostra amica, ma c'è, prego, io vedo davanti alla porta tanta di quella, togli sta roba, no, tanta di quella gente che aspetta di entrare davanti alla porta, per questa fantastica serata, che è la chiusura del carter, quindi ragazzi io vi dico, questa sarà una serata fantastica, e quindi io vi dico, buon divertimento, ci vedremo prima o poi.